In Italia ci potrà essere un nuovo corona? Possibile. Un nuovo corona è impossibile. Tra soldi, fama e potere, quale scegli? Prima prendi il potere, poi col potere prendi i soldi, coi soldi prendi la fama. Nella mia vita mi hanno confiscato due case, 5 milioni, 3 Bentley, 10 milioni di euro. Ho sbagliato tutta una serie di cose. L'unico obiettivo che ho, che mi manca, che ho sempre raccontato e non mi è stato permesso, è... Fabrizio, benvenuto al Symposium Podcast. Symposium perché è un vino? No, Symposium dell'antica Grecia. Cosa sarebbe? Un evento dove le persone si riunivano, un bicchiere di vino, magari qualcosa da mangiare che noi non abbiamo e parlavano di argomenti di comune interesse, di un certo livello. Non è un podcast, ma è una chiacchierata tra amici. È una chiacchierata, esattamente. Allora, nelle interviste hai sempre detto di aver visto 100 vide in una, fondamentalmente. Qual è stata la più grande lezione e qual è il tuo scopo della vita ora? Lezioni non le ho prese, ho preso batoste, che però poi non mi sono mai servite di lezione, perché la parola lezione significa imparare e non rifare. Quindi ho preso una lezione, ho capito che ho sbagliato, non lo faccio più. Io invece tutti gli errori che ho fatto li ho sempre commessi e quindi non ho imparato sicuramente niente. Non ho avuto lezioni dalla vita. Il mio obiettivo è quello di creare sempre, 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 cercare di riuscire a trovare sempre quell'adrenalina che mi permette di vivere e di godermi la vita, perché secondo me la vita senza adrenalina non c'è. Adrenalina per me intendo un'adrenalina lavorativa dei successi o degli scopo, di tutto quello che fai. E se dovesse avere oggi l'unico obiettivo che ho, che mi manca, che ho sempre raccontato e non mi è stato permesso, è io l'ultimo cruccio che ho e che voglio diventare famoso negli Stati Uniti. Hai sempre una vita frenetica, no? Quando ti fermi un attimo a pensare, quali sono i pensieri che hai anche in carcere? Cosa pensavi quando stavi da solo? Ho una vita frenetica, guarda, nella vita normale io penso sotto la doccia, mentre mi alleno, che mi alleno tutti i giorni, e mentre dormo. Mi vengono i pensieri, senza volerlo. Dopodiché mi rinchiudo nei momenti in cui sono solo a leggere ed è una dote naturale dove ti vengono delle idee. Ti faccio un esempio, non so se mi è mai capitato. A me mi succede, per esempio, che io quando vado e voglio guardarmi un film, passo due ore e mezza, tre ore, non a guardarmi e a scegliere il film, ma a capire i contenuti dei vari OTT, si chiamano OTT, si chiamano Over the Top, sono i cinque, sono Amazon, Netflix, Disney e Discovery. Adesso è arrivato Paramount, ma ancora Paramount, non è a livelli, poi c'è Apple e quella OTT lì, per capire perché c'è una motivazione all'ordine delle serie, ai contenuti delle serie, all'uscita dei film, ai palinzesti che pubblica Amazon, alla differenza degli speciali di Amazon, quelli di Netflix, a come funziona Disney, a come viene impostato Paramount. e quindi praticamente ti metti a studiare anche lì. In carcere è diverso perché hai, acquisti, una nozione culturale superiore alla media, perché tu devi sapere questo, che chi fa 30 anni di carcere esce erudito in una maniera impressionante. Perché? Perché vive di telegiornali e di televisione. Se te passi 30 anni a guardarti tutti i telegiornali del giorno, e i programmi di intrattenimento, e ascolti, e senti parlare queste persone qua, in pari. Io in carcere, per resistere al tipo di vita frenetica che avevo, avevo una giornata occupata 24 ore su 24, non c'era mai un buco dove non avevi che cosa fare. E i tuoi momenti dei pensieri li facevi la mattina, tutte le mattine che correvi, nei 30 minuti, e quando ti allenavi, e soprattutto li facevi durante le notti, quando guardavi la televisione e pensavi a quelle cose lì, e ti venivano le idee, ma è sempre una questione di idee, quella roba delle idee, delle idee creative, che ti devono venire. Tu non potrai mai imparare a dire, ok, faccio l'imprenditore, creo qualcosa di nuovo, ce la devi avere nel DNA, sono dei doni che tu hai, o ce li hai o non ce li hai. Quelli non li puoi imparare. Quindi diciamo che quando ti fermi a pensare, pensi sempre business, cose da fare, progetti. Io ho la mente sempre prefissata al guadagno quotidiano, e alla notizia quotidiana, e al prossimo step lavorativo che devo fare. La mia vita, la mia testa è occupata così. Quando, diciamo una cosa che credo che, in cui sei il più forte di tutti, sei sempre riuscito a cavalcare l'onda dell'attenzione. Cioè sono pochissime persone che funzionavano sulla TV, che funzionano sulla TV, che funzionano sui giornali e anche sui social media. Ma perché lo devi saper fare? Qual è il segreto secondo te? Non è un segreto, è un dono. Abbiamo inventato Facebook prima di Facebook, cioè abbiamo inventato Instagram utilizzando Facebook prima di Facebook. Noi facevamo i post con Brenne, arrivava a casa, non lo sapeva neanche, si trovava a casa, aveva pasta a boiello, l'acqua a San Pellegrino, gli occhiali Carriera, diciamo perché amore stasera è apparecato alla cava, lasciatare, postavi quattro foto su Facebook, andavi dalla società e gli dicevi, guardate che una nuova comunicazione è questa, non esisteva Instagram. Oppure quando ai tempi del 2000 c'erano tutti i brand come Guru, Baci e Bracci, c'erano le personalità, cioè quella roba lì tu ce l'hai come dono, non è una cosa che puoi imparare. Quando io switcho e divento personaggio televisivo, costretto a diventare personaggio televisivo nel 2005, perché scoppia l'inchiesta Vallettopoli, e so che da quel punto, prima io ero famoso, ho fatto televisione, e poi ero famoso perché ero il marito di Dina Morice, perché ero quello che ero, e poi sapevo quello che ero quando decido, e lavoravo sul personal branding degli altri, quando scoppia l'inchiesta Vallettopoli, siccome ho questo intuito grandissimo giornalista, capisco che il protagonista sarei diventato io, allora dicevo di fare il brand, decido di trasformare in personaggio, dicendo che scrivo un libro, vado da Costanzo nel 2005, con Costanzo faccio un uno contro tutti, dove c'era tutto il mondo della televisione, mi ricordo che c'era Fiorello, c'era Ornella Muti, Ornella Muti li tenavano la mano, non aveva fatto 30 anni in televisione, si spagitava, io ero lì, era la prima volta che andavo in televisione, ed ero il protagonista di quella puntata, dove nel pubblico c'era tutta Mediaset, per me era essere a casa, senza provare un minimo di emozione o di paura, con una scioltezza, è quella roba lì, e tu ce l'hai o non ce l'hai, non la puoi imparare, la naturalezza della risposta, la battuta pronta, il saper cogliere i momenti televisivi, il saper dire le parole giuste, sono cose che tu non impari, sono cose che tu ci nasci, o ce l'hai o non ce l'hai, sono dei doni, poi al dono ci deve aggiungere la cosa più importante, che non tutti sono fortunati, che è l'intelligenza, se sei fortunato di avere l'intelligenza e la coltivi, la coltivi con le tue passioni, allora poi puoi svoltare, questi sono i segreti. Qual è stato lo scoop più grande che hai pubblicato o non pubblicato? Dopo Valle e Topoli ne sono usciti tanti, sicuramente non ho pubblicato le feste, io ero l'unico, quello mi ha permesso di avere un rapporto enorme con Berlusconi, ero l'unico, ma quello si sa ad avere le foto del bunga bunga, quelle foto non sono mai uscite, e non usciranno mai, le scupe le ho praticamente pubblicate tutti, quelli che non le ho pubblicate poi sono usciti, molti le ho raccontati, però nell'ultimo periodo, che mi è costato anche caro, ed è costato caro un amico mio, perché poi la gente non lo sa, io ho voluto stare fuori dalla televisione per due anni, due anni e mezzo, e facevo la televisione da dentro, cioè facevo i contenuti di programmi televisivi uno su tutti, praticamente il programma di Giletti, che è uno dei miei migliori amici, dove l'arena lo facevo io, e quindi tutti gli scoop abbiamo fatto una marea di scoop, dal caso di Genovese a quella roba lì, però poi quando siamo arrivati a Messina Danaro, perché il Baillardo, le chat di Messina Danaro, io sono stato a Palermo, io sono entrato in possesso di tutti quanti i suoi archivi, di tutti quanti i suoi diari, della sua voce, ci stiamo parlando del più grande boss, è stato quello per esempio un periodo che mi ha dato un'adrenalina, che poi ha portato al licenziamento di Giletti, dove ci sono dietro delle cose che non vi posso dire, che sono molto gravi, che sono legate alla storia dell'Italia, alle stragi del 92 e del 93, ma in un'età più avanzata, e quindi in argomenti più seri, perché a me piace moltissimo la cronaca e la mafia, e soprattutto io ho studiato tantissimo le stragi, Borsellino, Falcone, penso che quando sono arrivato a toccare quei materiali lì, è stato il momento più emozionante, la cosa di cui ne vado più orgoglioso, mi è costata, perché hanno licenziato Massimo, mi è costata perché una notte sono venuti in 30, dalla DTA di Palermo, a casa, a distruggermi da casa, a crearmi tanti problemi, sapevo che mi avrebbero creato tanti problemi, quando sono andato a Palermo a fare quello che ho fatto, ho rischiato, quando uno normale a 50 anni, con la vita che hai fatto, e col patrimonio che hai, e quello che fai, dici che cazzo me ne frega a me di andare da Messina a Danaro, stiamo parlando del più grande, è stato un motivo di orgoglio, poi l'inchiesta del calcio mi ha fatto divertire da morire.